che state a fare qua? siccome ci coprono tutti che oggi siamo venuti le persone ah quindi siete pure voi? siete manifesti? faccio il manifesto di me stesso facciamo i manifesti, abbiamo speso i soldi e abbiamo fatti i manifesti senza colla manifesti senza colla? ecologico, manifesto live, live la spalletta mi copre tutto, se stanno questi ci coprono tutto facciamo tempo a mettere un manifesto, tu manifesti e il posto nostro sta sempre coperto che dobbiamo fare? ce lo dica lei signor Cristo eh vabbè allora quante copie ne ho fatte a sto filmato? eh non lo so, faccio te 7.000, come hanno fatto questi, mi hanno detto 7-8.000 copie oggi stiamo qua a Noretta facciamo i manifesti qua a Noretta e poi ci spostiamo, andiamo da plancia a plancia, quelle autorizzate, sempre autorizzate e facciamo i manifesti però questa non è, questa è la quattro, non è la vostra? no, questa è la quattro e vabbè ci hanno coperto tutto, ora a Noretta e beh mettetevi alla otto no eh no perché io facevo la scaletta ah ho capito, al secondo piano invece avevo la scaletta, ti cedevi un po' di comprensione, capito? allora, casomai domani si portava la scaletta, eh Sandrino eh, mo gli faccio un'ora qua, capito? eh, mettete a quest'altra, vai questo qua, io mi metto un'ora qua eh, eh, eh lo faccio un'ora qua e faccio il manifesto vota e fai votare vota Privitera vota e fai votare Sandro Torazio Sandro Torazio Lista Frascati Nostra Lista Frascati Nostra manifesto live adotti sindaco adotti sindaco vota per adotti sindaco Torazio Privitera Grazie